Fabio Porta, deputato PD eletto all'estero, torna il Festival Spartense, un appuntamento per riflettere un po' anche sulla nostra cultura, sulla nostra identità. Sì, è un appuntamento ormai fisso, un appuntamento importante anche perché il Festival delle Spartense già una decina d'anni fa o poco meno aveva individuato alcune strade che adesso sono diventate centrali nelle strategie di promozione dell'Italia nel mondo. La valorizzazione dei territori, il rapporto immigrazione-immigrazione, il ritorno alle origini come turismo, come lavoro, ma soprattutto i rapporti culturali con i giovani italo-discendenti. Quest'anno sarà sicuramente un momento importante, ne discutiamo oggi, speriamo che il Festival delle Spartense possa avere anche quest'anno quello spazio, quelle ripercussioni non solo in Calabria, dove è nato, ma in tutta l'Italia e soprattutto nel mondo.